Continuiamo a parlare con la nostra ospite, prima però vi ricordo che avremo anche una telefonica tra una decina di minuti circa. Allora, parliamo di un po' l'aspetto personale, se possiamo dire così. So che oltre alla musica fai anche parecchie cose, fai anche tante altre cose, mi raccontavi fuori onda. Sì, vengo un po' da un'impronta teatrale, quindi questa cosa mi fa crescere la voglia di scoprire in tutto quello che faccio, di capire quello che sto facendo in maniera forte, quindi anche sull'interpretazione do una grande spinta a livello di testi. Senti, so che fai anche l'insegnante, mi sbaglio? Sì, come diciamo io lo dico sempre, il mio primo lavoro è il mio vero lavoro, sono una teacher d'inglese e i ragazzini impazziscono per una insegnante comunque giovane e che gli dà questa ventata di nozioni però con una metodologia nuova, no? Che è quella a 360 gradi che va dal teatro alla musica eccetera eccetera. Senti, mi posso intruforare tra i tuoi studenti così intanto imparano anche l'inglese? Come no, assolutamente, sei ben accetto Salvo. Perfetto, perfetto, bene, dopo la solita figura che faccio quando ci sono aspetti l'abbiamo fatta anche stamattina, bene, andiamo avanti. Senti, sono i miei primi fan, quindi saresti anche tu il mio primo fan. Ah, beh, ci mancherebbe insomma. Fuori onda mi raccontavi anche del premio Mia Martini, so che sei in finale, raccontaci qualcosa anche qua, come è partito quel percorso? Allora, io mi trovo al premio Mia Martini perché ci tenevo a questo premio e l'ho sempre sentito importante perché Mia Martini per me è una grande artista in quanto lei cantava e come dicono anche molti giornali, lei vomitava parole e note, quindi è una cosa forte, no? Quindi è come se lei volesse veramente dire quello che ha dentro, quindi mi sono ritrovata lì e ho detto no, voglio arrivare però un po' da adulta con una rossa formazione e quest'anno mi sono proposta. Ho iniziato a propormi con un brano edito che è Donna di Mia Martini che parla un po' sulla violenza sulle donne perché la sentivo attuale ancora e poi niente, sono arrivata, ho passato questa, sono passata in questa finale e adesso dovrò fare un pezzo inedito che già ho e che poi uscirà successivamente. Senti, che giorno era a finare? Sicuramente a ottobre, se non erro, sì, però loro cosa fanno? Fanno dei preliminari radiofonici, quindi mandano in onda il pezzo affinché abbia una forza e arriviamo a ottobre con l'esibizione del pezzo nuovo. Il mio singolo poi invece uscirà a settembre e quindi abbiamo tempo per ragionare su questo brano che lo vedo molto forte, lo sento molto forte. Ovviamente prima che vai alla finale noi ti aspettiamo così ti portiamo un po' di fortuna. Eh magari, perché voi mi portate fortuna, è vero. Poi stamattina mi hai portato non solo la fortuna, anche una bella rosa rossa per ricordare ai nostri che ci ascoltano, ai nostri ascoltatori. Bene, bene, bene. Grazie. Niente, ma ci mancherebbe, era doveroso.